Grazie Un'altra cosa che io non capisco che comunque il motore di piano più alto è sempre più bello invece adesso John Deere e New Holland lo vanno a scazzare esteticamente perchè dai il T8 è esteticamente più bello ma la grande è il John Deere uguale anche il K sono bruttissimi sono brutti brutti ho dovuto scalare l'ha ributtata si a te piace Massimo aspetta questo questo è il è 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